Siamo qui con il dottor Corrado Germenia, responsabile del pronto soccorso ematologico del Policlinico Umberto I di Roma. Quanto è importante questa giornata di sensibilizzazione sull'emoglobinuria parossistica notturna? Questa giornata di sensibilizzazione sull'emoglobinuria parossistica notturna è importante in quanto si tratta di una patologia rara che pochi medici o pochi specialisti conoscono e poiché è una patologia di territorio in quanto gestita per tutta la vita di questi pazienti del territorio è bene che ci sia una sensibilizzazione in modo tale che venga estesa di più possibile la conoscenza dell'esistenza di questi pazienti che hanno particolari esigenze assistenziali. Di che cosa ha bisogno una persona con questa malattia? Quali sono le sue necessità assistenziali e organizzative? Questi pazienti si caratterizzano per essere trattati per la propria malattia con dei farmaci molto particolari per tutta la vita per cui hanno bisogno di una necessità assistenziale e continuative e soprattutto trattandosi di pazienti che vivono nelle proprie case quindi si tratta di una patologia di territorio ebbene che il territorio conosca le esigenze di questi pazienti da qui l'importanza di un'interfaccia con il territorio qui ci troviamo nel pronto d'occorso ematologico del Policlinico Umberto I che è l'unico pronto d'occorso dedicato ai pazienti con malattie del sangue in Italia probabilmente anche in Europa e nasce proprio da un'esigenza voluta ormai da tanti anni è un'esigenza di avere un'interfaccia continua con il territorio in quanto tanti pazienti con malattie del sangue tra cui quelli affetti da emoglobinuria parossistica notturna vivono nel territorio, hanno esigenze, hanno bisogno di un'interfaccia assistenziale continua Quali sono le sue raccomandazioni per un miglior controllo della propria condizione? Le raccomandazioni per il miglior controllo dei pazienti con questa patologia sono essenzialmente un'adeguata istruzione del paziente e dei suoi familiari trattandosi di una malattia rara è impensabile che la comunità sanitaria conosca in maniera appropriata questi pazienti, questa patologia e tutto ciò che comporta le terapie che questi pazienti fanno quindi il paziente deve essere istruito dai propri ematologi per poter informare lui e anche i familiari informare in maniera adeguata i sanitari con i quali eventualmente venga ad incontrarsi